E l'Oscar come miglior film Ah, c'è un errore Moonlight, avete vinto voi Non è uno scherzo Mi spiace, mi sa che avete letto Non è uno scherzo È Moonlight ad aver vinto Ad aver vinto Come miglior film Cosa hai fatto, Warren? Cosa hai fatto? Io volevo dirvi che cosa è successo Ho aperto la busta e diceva Emma Stone, La La Land È per questo che ci ho messo così tanto Ho guardato Fay e poi ho guardato voi E io non volevo essere divertente Non volevo fare lo spiritoso Ma sei stato spiritoso e divertente Grazie Questo è Moonlight Miglior film Ok